Come stai? Eccolo qua, vedete? Ha il suo nome, papà è a destra e la mamma a sinistra. Guardate, ambiente pulito, vi assicuro che non avevo avvisato l'imprenditore che sarei venuto a visitare la sua azienda della provincia di Brindisi. L'imprenditore che ha sviluppato questa attività ha messo in sinergia l'attività di produzione del latte con la produzione di biogassa, la produzione di energia elettrica attraverso pannelli solari. Questa azienda sostanzialmente produce l'energia che consuma. Le mucche vengono tenute a fresco dai ventilatori. Ecco qua, il massaggio. Bella azienda in cui si può verificare come il benessere animale venga ricercato dagli imprenditori agricoli attraverso lo sviluppo di aziende che ci tengono ai loro animali. Sono trattate bene, sono contente, producono più latte e latte di maggiore qualità. È quello che va ricercato in un ambiente sano in cui una buona produzione corrisponde a maggior reddito anche per l'imprenditore. Questo è il segreto delle produzioni italiane, la qualità.